Hanno nuovo, vecchi rifiuti, i cassonetti sono stracolmi nella maggior parte dei quartieri, soprattutto in quelli periferici e dove ancora non è iniziata la raccolta differenziata. Roghi nelle ultime ore e rimpallo di responsabilità tra comune, RAP e cittadinanza. Intanto, nelle ultime ore nella sede comunale di Palazzo Palagonia, una lunga riunione tra i vertici della partecipata che si occupa dei rifiuti con il presidente Giuseppe Todaro, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore Pietro Alongi. Sindaco che aveva già bacchettato la RAP, che non ha ancora dimostrato, ha detto di essere in grado di migliorare i suoi standard, paventando l'ipotesi di rivedere forme e modalità dei rapporti con l'amministrazione. Dichiarazioni che hanno mandato in fibrillazione i sindacati, che adesso pensano di non rinnovare gli accordi interni. Pare però che il chiarimento ci sia stato. Le feste natalizie tra le ferie dei dipendenti e la carenza annosa dei mezzi hanno amplificato il problema dei cassonetti stracolmi di rifiuti. L'obiettivo è quello di cercare di avvicinarsi alla normalità appena dopo l'epifania. Intanto i sindacati restano sul piede di guerra perché non hanno gradito l'attacco diretto dal sindaco Lagalla ai lavoratori, ma dicono che senza mezzi e uomini l'emergenza sarà sempre costante. Nonostante i concorsi per le nuove assunzioni per operatori autisti, non ci sono state ancora integrazioni. Senza fatti concreti, dicono, non verrà firmato l'accordo sugli straordinari che scade il 15 gennaio.